Dai ragazzi, diamo le scarpe Eh mister, davanti metti anche le cinghie bianche per favore Però davanti bianche e dietro con le arancioni Se non c'hai quell'arancione vedi che tu ti doi i tuoi Però qua davanti tu ti piace Usa quella scala per metterla Questa è la mia E qui, ma la scala non è uscita Non è data di imparare 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 Ecco ragazzi Si, naivo. Sono Raffi, squadra di Iacoli, lavoriamo a Bari, DJ Tent, Italia 1. Tutti i Dracoli Italia 1. Riccia le case di informe delle copie che si a recupera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.